Potrebbero riaprire entro il 10 luglio 2021 le discoteche italiane e l'ingresso mi ricordo che sarà previsto eventualmente con il Green Pass, il Pass per te. Di ciò ci informa Andrea Costa, sottosegretario all'Università della Salute, ospiti RTL 125, nei primi dieci giorni di discoteche, nei primi giorni di luglio, nei primi dieci giorni, ripeto, di luglio, ripeto, questo mese così importante e così caldo, potrebbero riaprire discoteche e il criterio del Green Pass potrebbe essere utilizzato e applicato anche, ripeto, ovviamente alle discoteche. Sarà una, chiamiamola, importanza, sarà un passo in avanti, no? Già vi ricordo che dal 28 giugno 2021 infatti si andrà via via ad abbandonare sempre di più la cosiddetta mascherina all'aperto, però verrà tenuto ovviamente ruoli chiusi a mesi pubblici, ai negozi e chi non fa parte dell'area bianca, dell'area della zona bianca, lo dovrà lo stesso utilizzare. Vi ringrazio, sembra esserci una piccola ripresa, un piccolo segno di ripresa, vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, vi cari venditi di YouTube, iscrivetevi al canale, al lato italiano, commentate, saluto negato al prossimo video.